Il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, si appresta a emettere un'ordinanza che riduce l'orario di apertura delle sale slot ad otto ore al giorno. Prima di procedere però, l'amministrazione ha ritenuto opportuno incontrare le categorie economiche per sentire i pareri su una manovra che porterebbe diversi svantaggi agli esercizi in questione. A Belluno le attività di questo tipo sono una decina con un andamento in crescita. Rispetto al passato, le richieste di apertura sono infatti sempre più frequenti. I dati che ci sono parlano di soldi in aumento, soldi che vengono giocati che sono sicuramente in aumento, così come i dati della ULS sono in aumento. Quindi c'è un problema che sta certamente emergendo. Il grosso problema sanitario è legato al fatto che qui c'è una grandissima difficoltà a far emergere il fenomeno. Cioè i dati che noi abbiamo sono di quelli che praticamente spontaneamente si sono rivolti all'azienda sanitaria. Il vero problema non sono tanto loro perché questi sono presi in cura, sono invece tutti quelli che non si rivolgono alla struttura sanitaria e di cui addirittura nella maggior parte dei casi gli stessi familiari non hanno neanche conoscenza. Ad emergere durante la riunione l'obiezione che la ludopatia non si combatta tramite l'abbattimento delle ore di apertura delle sale slot. Io osservo semplicemente una cosa e cioè nel momento in cui diventa ufficiale un problema di salute pubblica o diventa ufficiale un problema di ordine pubblico o di traffico veicolare il sindaco è obbligato ad adottare alcuni provvedimenti e ci sono provvedimenti che possono essere adottati e provvedimenti che io non posso adottare perché quando qualcuno osserva che c'è anche il problema del gioco online ne sono perfettamente consapevole credo che sia una grande schifezza perché non c'è controllo, io purtroppo non posso adottare una ordinanza per oscurare i server quindi non è una cosa che posso fare io. Questi tipi di provvedimenti non risolveranno tutti i problemi, sicuramente di sicuro rappresentano un freno e di sicuro rappresentano sicuramente una cosiddetta riduzione del danno, questo senza ombre di dubbio.